numero 1, numero 1 ah, numero 1 ah, è carino qui ehi Pecetta scusami mi hai spaventato, devi fare attenzione mi sono spaventata per paura di averti spaventato non mi sono proprio spaventato ti ho sentito parlare con Carla Trezzi quanto? hai sentito adesso? cosa hai sentito? oh, sono qualcosa su un'idea in ricorsa oh, si già, era tutto gazzato, ovvero dicevi sul serio? cosa? che gli fai fare in giro? oh, chi lo sa, prima devo andare via da qui e partecipare alla gara ah, sai, Cricchetto si fida di te ah, si, certo l'hai detto sul serio? cosa hai detto? che era solo un si certo, si certo, si certo senti, io sono esatto, oggi la giornata è stata luna sì, certo, no notte tre Dì, sì, sì, sì Grazie.